Ciao a tutti, benvenuti in questo video, in questo video faremo una video reaction, che è il mio secondo video, nel primo video è un video vabbè così per farlo, 6666, un video molto strano, che secondo me adesso non piacerà perché è un video, vabbè così a caso, atto, ragazzi, no male, oddio, no sino troppo, solo ai sapienti, no so, non sono del'сп Messina, Mau bella per il 친app lógico, allora sono arrivati da un video gli ho 65 perché èenta di un video prima, ragazzi a mia piccola completa, ma per il caosso這些 cambio, longa è un video, un video appello che Waspena su avalnya per ogni 30 minuti soprattutto sulle against fai i gesti così fanno scusatemi bg non è che bellino ma io non mi scrivo perché ci sono cose ancora volete una cosa noia per me c'è un po' più non posso nessuno aspettate guardo sapete il canale te verca ho dei video stranissimi aspettate sto entrando solito guarda sdiri guardiamo sdiri io ho scoperto io ho scoperto io ho scoperto io sono tasca e ho in tutto il quarto leggenda e questa la grossa caramella il tonco il tonco di merda allora la la macchina di fego cazzo non ce ne sono più e e e e e e quindi io ho scoperto il gioco fin dall'inizio della sua di quando è uscita e sono donata c'è quello che compra una gemme tutto questo tempo sono uscite quattro leggendari tutte in quattro quattro tutti in quattro tutti in quattro bauli ci sono i bauli o ma i bauli magico c'è non quelle un bauli niente di che e e vabbè è la morte che non c'entra niente che fa e quindi tutti muo quindi e quindi non non c'è c'è molti non giocano clash oia lei non capiscono cos'è questo ragazzo non l'ho mai capito il 95% il c c c c c c c è un faccio cosi e cosi e cosi e c'è di qui ecco ma fai sono tutti i nomi che io non capisco ma va bene adesso adesso sta tutto facendo cose che non fanno più idea adesso mettiamo qualcos'altro ragazzi io cerco perchè adesso non posso fare tutto il video perchè video 2 a dopo e condiziamo un altro canale molto che si chiama ma è inglese questo canale ma cercate di capirlo per favore perchè io questo canale sono iscritto è uno dei miei unici canali in cui sono iscritto si sono iscritti a me io sono iscritto a loro ma però io ho il canale zero iscritti e quando ce ne ho qualcuno si iscriverà si iscritto quindi iscritto a me c'è un video bello come che ne so io i video più belli che so è la mix ma è style d'un saga guardate questo canale si chiama dragon boy 96 con questa cosa dovete trovarlo ci sono dei video bellissimi e anche quelli un po' brutti mettiamo un video bello come che ne so a me mi piacebbe mettere un video come questo dai qua parla che vedete vedete che vedete che vedete che vedete capito 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 io ho capito un po' inglese ma poco che in inglese fa un po' schifo lo so quindi io faccio un po' schifo in inglese il motivo che io veramente mi sento il saturo eh adesso ahahah non c'è la cammella si 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 ragazzi io non sapevo questa cosa sapete bovi non lo sape che bello vabbè c'è questa cosa io credo che voi capisciate questo qua bene se non capisco l'italiano però vabbè ok qua dice che vedete si 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 cose questo gioco è fatto su come si 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 ci sp si se si 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 ma oggi sono solo su stimo passato e lo so perché stimo una cosa molto molto cosa che sono abbastanza pochi giochi su mac e fatale mondo che si intende queste cose che io non so come mi fa un windows metallico sicuro molto precedente ma ci vedete tutto non è realizzata se io voglio parlare di questo se io non posso così guardate questo è veramente la cosa che ha fatto il creatore ma io voglio tutto in una città massima è una cosa bellissima perché anche se in inglese vuole riuscire a leggermente non so se questo è un secondo temi tipo di video così che io non so se questa cosa è una città di video perché è una cosa bella io sto per fare anche under table questa cosa fa un po' più avanti facendo il table fare un po' più un po' più a poco ma non adesso adesso lo sto montando ok grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.